Quindi in qualche modo paradossalmente in questo nostro mondo contemporaneo, in cui la normativa, le regole sono il fulcro di tutto quello che in qualche modo diventa il nostro comportamento e lo stigma del nostro comportamento, i bambini sono molto più in pericolo e molto più a rischio rispetto a qualche tempo fa. Ecco, diciamo, cioè nell'infanzia, nell'adolescenza, i bambini devono imparare tutta una serie di cose, no? E quindi non devono crescere con l'idea che dappertutto c'è un pericolo, che una serie di cose non si possono fare. Devono poter esplorare il loro ambiente. Oggi effettivamente ci sono tutta una serie di regole, che poi non è detto che vengano seguite, però si è creata un'atmosfera per cui sembra che all'esterno della casa sia pieno di pericoli. Per esempio che il pedofilo sia dietro l'angolo. Questo grazie anche al fatto che spesso la televisione utilizza queste notizie allarmanti per attrarre l'interesse dello spettatore, quindi si fa un uso eccessivo di certe paure. Ecco, perché poi se uno invece esce di casa nel mondo reale, appunto non trova continuamente questi aggressori e così via. Anche perché in qualche modo è più facile trovarlo dietro uno schermo, un pedofilo, o comunque un pericolo virtualizzato ma neanche tanto. Sì, dietro uno schermo a volte il pedofilo è dentro casa, più che fuori, più che fuori insomma. Quindi c'è un clima di allarme perché noi sappiamo benissimo che la cattiva notizia è la buona notizia per chi lavora nei media e quindi se ne fa un uso continuo. Dal mattino alla sera si vedono notizie di tipo negativo e questo può creare un clima di allarme eccessivo. Ecco, nella rivista Psicologia Contemporanea molto spesso avete trattato argomenti che sono relativi al mondo virtuale, internet, il web, i social media. In particolare ho trovato, per restare nell'argomento dei minori, ho trovato molto interessante un articolo che era il compasso nei numeri scorsi sull'eroticizzazione delle bambine. Questo mi ha fatto pensare che in qualche modo inconsapevolmente molti adulti eroticizzano i propri figli nel presentarli come ad esempio grandi esperti di iPad, di iPhone, che sono poi strumenti erotici in qualche modo. Lei che cosa pensa di questo? Ma guardi, questo fa parte di un clima di accelerazione della crescita. C'è una tendenza ad accelerare la crescita, a vedere i bambini come più grandi e più maturi di quello che sono. Siccome vengono a contatto con queste tecnologie, siccome imparano presto ad usarle, allora gli si attribuisce una maggiore competenza, una maggiore intelligenza e anche una maggiore maturità. E qui si fa una grande confusione, perché sapere usare una tecnologia non significa essere maturi. Cioè è una cosa usare, è una cosa poi quello che si trova all'interno di internet o nel mondo reale. Quindi i bambini non sono maturi, perché la maturità dipende da tanti fattori, tra cui anche l'esperienza di vita, l'età e così via. La crescita stessa. La crescita stessa, naturalmente. Quindi ovviamente è sbagliato sottovalutare i bambini, come forse avveniva in poche passate. Però è anche sbagliato sopravvalutarli, perché gli si attribuisce delle competenze che non hanno e gli si può mettere anche in seri pericoli, perché poi in realtà non sono in grado di gestirle. Quindi fa parte un po' tutto di una visione sbagliata dell'infanzia e anche di una proiezione di sé sui propri figli. Per cui molti genitori non riescono a fare una distinzione tra sei figli, ma proiettano i propri desideri, le proprie attese sul figlio. Anche perché ultimamente c'è questo mito del nativo digitale. Cioè sembra che chi è nato da un certo anno in poi abbia dei geni particolarmente... No, è ridicolo pensare a una mutazione genetica nel giro di 30 anni, no? Certo. Forse ci vogliono i millenni prima che questo si verifichi. Indubbiamente quando uno alla nascita trova una determinata tecnologia impara ad usarla. Come nelle generazioni passate, chi trovava l'automobile già alla nascita in genere era più esperto poi del suo genitore che invece aveva trovato l'automobile a 20 anni, eccetera, non nella sua vita e così via. Questo è un dato di fatto, però appunto sapere usare lo strumento è una cosa. Poi riuscire a gestire questo strumento, che poi è molto complesso, perché internet è molto complesso, puoi trovare di tutto, va bene? Lì richiede una maturità. Quando io apro un sito porno per caso, per esempio Digito Topolino, ho Biancaneve e Sete Nani, e ci trovo la pornografia, no? e ho sette, otto anni, io posso averne un trauma, naturalmente, perché non sono in grado di gestire quel tipo di realtà. Questo è il problema. Anche se so usare benissimo digitare, usare l'iPad e così via. Sono due livelli diversi. Quindi confondere, diciamo, la capacità di sapere poi gestire una serie di notizie, anche di sapere capire, sapere distinguere quelle vere da quelle false, perché alcune sono false, oppure sono soltanto verosimili, magari. Sono verosimili, ma non sono vere. Ecco, questo richiede una formazione, che ovviamente un bambino non può ancora avere. A me è capitato di aver trovato cose sbagliate andando su internet, no? Però poi allora sono ricorsa ai vecchi libri, io ho fatto un confronto e mi sono resa conto che quelle erano così informazioni date in maniera molto superficiale. Però questo tipo di lavoro un bambino non lo può fare, perché non ha ancora questa formazione alle spalle. Ecco, quindi cosa c'entra? Certamente i bambini sanno usare l'iPad meglio di me, magari, no? Non mi stupisco, lo considero una cosa normalissima, però io so orientarmi molto meglio sulle notizie che trovo, dove sono i fatti. Sì, certo. E questa evoluzione del sapere, in qualche modo, nell'utilizzo del mezzo da parte dei minori, mi sembra che rientri un po' in una tempesta perfetta rispetto a quello che diceva. Nel senso che i minori sono più portati, velocizzati a usare i nuovi mezzi. I genitori a loro volta non sono esperti nel condurre una formazione giusta nell'utilizzo cognitivo di questi mezzi, per cui si crea una tempesta perfetta che porta a molti molti lati negativi. Infatti, quello che si consiglia ai genitori oggi è di avvicinarsi a queste tecnologie e cercare di conoscerle, cercare di conoscerle per averle sotto controllo. Altrimenti, sfuggono di mano e i ragazzini tra di loro vanno da qualsiasi parte e possono incorrere in pericoli più o meno gravi. Alcuni sono anche molto gravi. Ma perché si trova di tutto, si trovano anche i siti del gioco d'azzardo, si trovano i siti che esaltano la violenza, siti che esaltano l'onoressia, per esempio, si trova qualsiasi cosa. Sessismo, razzismo. Positivo, sicuramente anche in positivo, molto, però anche molto in negativo. Ma ci sono anche dei siti che insegnano a suicidarsi. Quindi un genitore sa e è contento che il proprio figlio vada a esplorare siti del genere. Pensa che un bambino di 8-11 anni possa avere la maturità, magari anche a 14 anni. Per questo il genitore dovrebbe avere il controllo di questi mezzi social network, mezzi di informazione, eccetera. Se ha un figlio in casa, non può lasciarlo. E compiacersi, magari anche compiacersi perché è bravo nel muoversi. Quindi dovrebbe essere un uso meno emozionale da parte dei genitori, insomma, degli adulti, più consapevole, più formato, e formativo. Qui i genitori si devono formare, assolutamente. Oppure non tenere in casa questi mezzi. Però poi cosa succede? Che il loro figlio vada al compagno. iscriviti al nostro canale. Grazie a tutti